buongiorno a tutti noi ogni giorno ci confrontiamo litighiamo per il nostro partito per chi è più bello e chi è più brutto 400 imprese sono state sanzionate dagli stati uniti perché fanno affari con la russia abbiamo quattro imprenditori come notate ho messo qui nomi perché io sono con loro tu america stati uniti richiamate i cittadini italiani e li sanzionate perché continuano a lavorare con la russia se la mia attività principalmente ha sempre lavorato con quello stato come vado avanti come vivo come sopravvivo come chiamate voi questo comportamento perché avete la concezione meloni sta dando i soldi no meloni pasquale nicola conte giovanni chi c'era c'era era costretto per l'accordo che noi abbiamo preso con la nato essendo poi schiavi dell'america a dare i soldi per la guerra quest'anno il debito pubblico ha fatto paura 100 miliardi in un anno che sono tantissimi e noi stiamo a litigare come delle pecore su quale partito è buono questo è il problema noi negli anni della guerra abbiamo avuto una dittatura ma ce la stiamo portando tuttora e questo ne è il risultato finale loro stati uniti d'america non danno neanche la possibilità al governo italiano di sanzionare le imprese italiane che hanno continuato a portare avanti il loro business con la russia no sono direttamente intervenuti loro spero che il video non lo bloccano anche perché non sto dicendo niente di strano e sarebbe opportuno iniziare a cambiare qualcosa bisogna ritornare agli anni 60 agli anni 70 servono le brigate e in arra per iniziare a far capire ai governi che bisogna farla finita con tutta questa immondizia che ci portiamo dietro perché non serve non serve proprio parliamo di buonismo che bisogna aiutare non bisogna dare ancora più potere a putin e poi voi americani venite a casa nostra e senza chiedere niente a nessuno andate ad attaccare le aziende italiane che lavorano con la russia ok l'importante è saperlo e l'importante che tanti di voi comprendano che cosa sto dicendo perché questo non è un gioco questo è un comportamento da vigliacchi è vergognoso ed è alquanto imbarazzante che i giornali ne parlino ma molto poco qui ci sarebbe un grandissimo dibattito da fare ad oggi io non ho sentito nessun politico alzare la voce la voce non si alza e non si alzerà mai perché quando prendi due stipendi ti adegui tanto che ce ne fottano i degli imprenditori italiani noi abbiamo lo stipendio come europarlamentari quando ti porti a casa altri 5 6 mila euro più i gettoni d'oro per quando fai le tue presenze qual è il problema è un accordo di merda per distruggere il sistema e comunque hurra sempre viva putin di più